Maria De Filippi in montagna a Chiare, Natale con Maurizio Costanzo e poi in vacanza con gli amici Più passano gli anni e più Maria De Filippi diventa agile e atletica. Di essere una patita dello sport e di non riuscire per questo motivo a stare ferma, in fondo, la conduttrice di Uomini e Donne lo ha sempre detto ma, soprattutto, dimostrato Quando non si divincola tra un programma televisivo e un altro, anche in vacanza, la moglie di Costanzo non rinuncia mai ad un po' di sano movimento Le ultime foto che la vedono protagonista, per esempio, sono state pubblicate dal settimanale Chi Maria De Filippi, stando a quanto riportato, pare abbia scelto di andare a Chiare insieme al fratello e ad alcuni amici a Cormaier Prima, però, ha passato il Natale in famiglia, insieme a Maurizio.Maria De Filippi non si ferma neanche a Natale, le foto inedite della vacanza in montagna Agile, veloce e decisamente in forma, così Maria De Filippi appare nelle foto inedite pubblicate nell'ultimo numero di Chi Riuscire a distinguerla dalle persone che sono con lei, considerando la tuta da sci, gli occhiali, il cappello, la sciarpa ecc. Riesce difficile. In uno scatto, tuttavia, Maria è stata immortalata proprio a viso scoperto, tant'è che una volta rimessa l'attrezzatura per Chiare individuarla sulle piste non è stato un problema La conduttrice Mediaset pare si sia voluta godere questa piccola pausa prima di tornare a pieno regime al lavoro all'anno nuovo Il 2019? Maria De Filippi sembrerebbe avere in serbo diverse sorprese per il suo pubblico Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like